Buongiorno a tutti lettrici e lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi torna Pezzi d'autore, il progetto ideato da Martina del canale I Mindy Books che dà spazio alle autrici e agli autori che durante la loro carriera di scrittori hanno scritto moltissimo e che quindi hanno all'attivo moltissime opere. Ad ogni tornata si sceglie un autore diverso e tutti gli youtuber e gli instagrammer che aderiscono al progetto scelgono un romanzo o in generale un'opera di quell'autore e poi ne parlano sui propri canali di modo tale che chi sta dall'altra parte possa avere una visione non dico completa, complessiva ma perlomeno ampia e variegata della sua produzione. L'autrice scelta per questa tornata è Amelino Tomb, un'autrice che ha scritto tantissimo che pubblica un romanzo all'anno. Di conseguenza vi consiglio caldamente di scendere qui sotto nell'info box perché trovate l'elenco di tutti i canali, di tutte le pagine che questo mese partecipano all'iniziativa e andare a vedere anche i loro contenuti. Amelino Tomb è una scrittrice molto particolare, è figlia di un diplomatico belga ed è nata in Giappone e ha vissuto gli anni della prima infanzia e ha frequentato addirittura i primi anni di scuola in Giappone. Successivamente si è poi trasferita con la famiglia in Cina ma ha vissuto anche in Bangladesh negli Stati Uniti ed è arrivata, ha messo piede per la prima volta in Europa a Bruxelles all'età di 17 anni. Amelino Tomb ha esordito negli anni 90, all'inizio degli anni 90 con I gene dell'assassino e come vi dicevo prima da quel momento pubblica un romanzo all'anno. Tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Voland. Oggi vi voglio parlare di un romanzo un po' particolare, un po' sui generis e sto parlando di Sete. Ho scelto proprio questo romanzo che, devo dire la verità, non è particolarmente rappresentativo della produzione dell'autrice ma desideravo da tanto leggerlo. Desideravo da tanto leggerlo perché si tratta di una riscrittura degli ultimi giorni della vita di Gesù, quindi si tratta di una riscrittura del racconto evangelico. In generale amo le riscritture ma mi attirano particolarmente le riscritture del testo biblico, ragion per cui non vedo l'ora di leggere il Vangelo secondo Gesù Cristo di Salamago che ho acquistato e che è qui in libreria che mi attende. Ma torniamo a Sete. Come vi dicevo è il racconto degli ultimi due giorni della vita di Gesù, ma è Gesù stesso che racconta in prima persona quello che gli è successo. Quindi l'anotomb si è calata nei panni di Gesù e ha raccontato le ultime sue ore di vita dal suo punto di vista. La figura di Gesù, come potete immaginare, è un po' diversa da quella biblica. Quindi Gesù viene ridisegnato così come anche altri personaggi dalla Maria Maddalena, ma soprattutto a Dio che appare in veste molto diversa all'interno di queste pagine. e anche alcuni fatti, alcuni eventi sono leggermente diversi rispetto al racconto originale. Come vi dicevo, Gesù racconta le ultime sue ore di vita partendo dal processo davanti a Ponzio Pilato, processo a cui partecipano anche tutti i suoi miracolati che desiderano dire la loro e capiamo subito come la prospettiva sia un po' diversa rispetto a quella del racconto originale perché i miracolati, anziché testimoniare a favore di Gesù, in realtà reggono le parti dell'accusa. Vi è poi una parte che in realtà non trova riscontro nel racconto biblico, vale a dire che Gesù racconta la sua ultima notte, la sua ultima notte prima di essere condannato a morte e non riesce a prendere sonno e di conseguenza ripercorre alcuni episodi della sua infanzia, ripercorre la sua storia d'amore con Maria Maddalena e ripercorre anche l'incontro con gli apostoli, l'amicizia con gli apostoli e il suo rapporto con Giuda che poi lo ha tradito. Segue poi il racconto della passione vera e propria, quindi Gesù che deve trasportare sulle proprie spalle la croce verso il Golgotha per poi passare alla crocefissione, alla morte e l'ultima parte invece si concentra proprio sulla risurrezione. Come possiamo immaginare siete, eccolo qui, non ve l'avevo ancora mostrato, un libro pieno di dolore e di sofferenza perché Gesù descrive anche minuziosamente le ferite che gli vengono inferte, quindi descrive minuziosamente il dolore e la sofferenza che prova, in particolare è molto straziante la parte in cui viene descritto il percorso che Gesù fa verso il Golgotha con la croce sulle spalle. Quindi un libro pieno di dolore, pieno di sofferenza, ma contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare è anche un libro pieno di vita. Questo libro è un vero e proprio inno alla vita umana. Centrale è il tema del corpo, della fisicità, della corporeità. Ovviamente noi siamo abituati a associare la religione cristiana alla mortificazione del corpo perché quanto più si negano i piaceri del corpo, i desideri del corpo, quanto più si mortifica il corpo, tanto più ci si avvicina a Dio. Il Gesù di Amelino Tombi invece porta avanti una visione totalmente diversa, anzi Gesù afferma in queste pagine che la cosa più bella di questi 33 anni sulla terra è proprio l'esperienza dell'incarnazione, il fatto di avere un corpo fatto di carne ed ossa. Il corpo non è un contenitore d'anima, il corpo non è un semplice involucro, ma è ciò che ci permette di essere vivi, di essere uomini e come tale va glorificato, come tale va amato. In queste pagine si dice che non c'è nulla di più divino che mangiare quando si ha fame, che dormire e addormentarsi quando si ha sonno e placare la sete quando si è assetati. Da qui il titolo del romanzo Sete. Sete è anche oltre che un inno alla vita e un invito ad amare il nostro corpo, a rispettare il nostro corpo, è anche un inno all'amore. L'amore nella sua forma più pura, disinteressata. In questo libro Gesù ci parla dell'amore che lo lega alla madre, quindi dell'amore tra madre e figlio. Ci parla dell'amore coniugale, dell'amore di coppia. Ci parla anche dei legami d'amicizia, ma soprattutto nell'ultima parte del romanzo ci si focalizza molto sull'amore che ciascuno di noi deve a se stesso. Gesù disse infatti ama il prossimo tuo come te stesso e il Gesù di Amelino Tomb qui afferma che forse ci si è dimenticati di quel come te stessi, vale a dire prima di poter amare gli altri bisogna amare se stessi, per poter perdonare gli altri bisogna perdonarsi. Come vi dicevo un vero e proprio inno alla vita e all'amore. Sete di Amelino Tomb, come potrete intuire è un libro molto particolare, scritto con uno stile molto frizzante e molto pungente. Il Gesù di Amelino Tomb è anche a tratti divertente, ironico. Vi consiglio tanto questa lettura che ho apprezzato tantissimo e sicuramente Amelino Tomb è un'autrice di cui voglio leggere altro. Non ho letto tantissimo di suo, ma ho diversi dei suoi romanzi in wishlist. Quindi approfittando anche dei contributi degli altri youtuber certamente saprò scegliere al meglio quale sarà la mia prossima lettura notombiana. Se siete arrivati fin qui mi raccomando lasciate un pollice in su e se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate in generale di quest'autrice, quali suoi romanzi avete letto, quali mi consigliate e che cosa ne pensate nello specifico di sete. Io mando a tutti un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao!